Eccoci in viaggio verso Castel Goffredo, località Laghetti Turganti, via Acqua Fredda, di cui dicasi il Roccia, il Roccia dice che lì, il Roccia dice che ci sono delle bestie, dei tori, e allora andremo a vedere, ecco siamo in viaggio, Furguba Lourdes, Furguba Lourdes che va proprio per 130, e vedremo questi tori, quando bocheranno la rubasina e cosa succederà, leggeri, stare molto leggeri, morbidi, morbidi, ci sentiamo più tardi per i primi risultati Michele, la mara del Michele, Michele dorma, 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 ragazzi, oro, 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 roccia a tapirato, un Roccia a tapirato, sono in vantaggio, oro, 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 ah no, ah no, 4 tori contro un tori, ah come è attapirato, guardate in roccia, attapirato, grazie amore, è vero che la pesca ha fatto bene, grazie, grazie, no ti ho inculato bene stamattina, ho lavorato bene o no, vai, di culo, no quando c'è da dirlo bisogna dirlo, ma lì sono sportivo, non ho una voce, non ho una voce, pesa prima manche, prima manche, oro, prima manche, oro, 4 tori, 4 tori, amichi, oro, 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 dai, dai, ho un po' alleziano come potete vedere troppe giganti, troppe giganti nel laghetto, notare il laghetto è pieno, pronto per grazie a tutti